Opel al Salone Verona per il Transportec 2019 apporta delle novità davvero molto importanti. La prima è la Zafira Life, una nuova generazione di Zafira che affianca la Zafira che abbiamo attualmente in commercio che è una Sette Posti e aggiunge ancora più spazio e più flessibilità. Valorizza tutti quelli che erano i punti di forza della Zafira, tanti posti a bordo, versatilità, flessibilità, dimensioni compatte. Infatti è ora disponibile con tre diverse lunghezze da 4,60 a 5,30 metri. I posti aumentano fino a 9 e inoltre è possibile avere moltissime configurazioni di sedili all'interno, per esempio la configurazione vis-à-vis dei posti posteriori, con il tavolino. Quindi è il prodotto ideale per le navette, i noleggi autori con conducente, gli hotel, tutti coloro che hanno bisogno di trasportare, molte persone con i loro bagagli. C'è poi l'altro elemento estremamente importante, soprattutto per un salone dei veicoli commerciali come questo. Perché abbiamo il nuovo Opel Combo Cargo, è stato eletto da una giuria di 25 giornalisti esperti di veicoli commerciali come Van of the Air 2019. Porta nel settore dei veicoli commerciali tutte quelle che sono le tecnologie di assistenza alla guida, di comfort, già disponibili nel segmento delle vetture. Per esempio una telecamera anteriore è in grado di rilevare i segnali stradali e di riportarli all'interno del cruscotto, in modo tale da avere sempre il limite di velocità a portata di occhio. La stessa telecamera allo stesso tempo però rileva vetture e pedoni che ci troviamo davanti, in modo tale da attivare una frenata automatica d'emergenza nel caso in cui mi sia distratto e ci sia il rischio di una collisione. La stessa telecamera inoltre è in grado di mantenere la distanza dal veicolo che precede grazie al cruise control adattivo. Quindi nella filosofia Opel c'è sempre quello di portare nuove tecnologie a disposizione di tutti e in questo caso a disposizione degli utenti dei veicoli commerciali.